L'Abruzzo resta zona arancione, lo ha deciso la cabina di regia ministeriale in quanto l'indice di contagiosità è RT e A1,13 e rientra nella fascia di medio allarme. E' attesa da Marsilio però la proroga dell'ordinanza regionale in scadenza domenica che dispone la zona rossa per il pescarese e il chietino. Oggi 594 nuovi casi in Abruzzo, il 6,6% degli 8.929 test analizzati tra antigenici e molecolari. Tasso di positività che sale a oltre il 10% se si considerano solo i molecolari. Il più piccolo tra i contagiati ha sette mesi, il più anziano 102 anni. Oltre il 73% dei nuovi casi riguarda l'area Pescara-Chieti. Nell'ultima settimana 3.341 persone si sono ammalate di Covid, l'1,3% della popolazione negli ultimi 24 giorni. Oramai si può parlare sicuramente di terza ondata qui in Abruzzo, comunque nell'area metropolitana, perché i numeri sono veramente tanti. Un quarto dei positivi ha contratto la variante inglese, compreso il paziente di Avezzano, caso accertato dallo Spallanzani di Roma, che era sospettato di avere la variante sudafricana. La percentuale dei contagi da variante inglese sale al 70% se si considera solo l'area metropolitana. Se girano queste varianti ci può essere il rischio anche per chi si sta vaccinando, che poi la finalità ultima è vaccinare il maggior numero di persone per creare una specie di immunità di greggio e per proteggere la collettività, oltre che se stessi. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.689. Avevano un'età compresa tra i 56 e i 96 anni. 487 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 12.731 positivi accertati, 97 in più rispetto a ieri, al netto dei nuovi casi dei deceduti e dei guariti. 614 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 74 in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri ma con 4 nuovi ricoveri, mentre gli altri 12.043, più 95 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.